Cari telespettatori ben ritrovati a conoscere i funghi, ci troviamo in un bosco montano di conifere tra l'erba in una zona un po' rada abbiamo incontrato degli ottimi esemplari di russula acrifoglia una russula di dimensioni medio grandi dai colori bruni e con la carne che tende ad annerire con l'età si vede un esemplare di dimensioni abbastanza grandi vedete il diametro del cappello può raggiungere tranquillamente e superare i 10 centimetri la superficie è liscia e un po' vischiosa infatti si vede che sono rimasti appiccicati dei frammenti di muschio e di foglie il colore è bruno più carico al centro e più chiaro verso il margine margine che presenta una lieve incurvatura verso l'interno se noi capovolgiamo il fungo vediamo delle lamelle che sono di color crema o crace qualche volta presentano anche delle sfumature rosate sono abbastanza fitte e se noi proviamo a sentirne il gusto il gusto di queste lamelle è molto molto piccante infatti russula acrifoglia deriva il suo nome proprio da questo particolare il gambo è in questo caso piuttosto carico di colore brunastro si possono trovare esemplari con il gambo più chiaro quasi bianco della stessa tinta delle lamelle una caratteristica di questo fungo è l'arrossamento della carne dove viene toccata ecco qui si vede già dove ho maneggiato un po la base del gambo che è arrossata ma anche le lamelle dopo un po di tempo tendono ad arrossare la carne come in tutte le russole è cassante cioè si rompe con una frattura netta e si vede che all'interno tende già ad annerire tutto il fungo rimanendo sul terreno molti giorni diventerà nero come se fossero dei carboni sul terreno questa russola non è una specie commestibile perché ha un gusto sgradevole anche se non contiene tossine particolari può confondersi con altre russole dello stesso gruppo ad esempio con russola nigricans che però le lamelle molto più spaziate e non piccanti come in questo caso oppure con russola albonigra che ha lamelle fitte dal sapore leggermente mentolato abbiamo conosciuto in questa occasione russola acrifoglia una russola piuttosto diffusa nell'ambiente montano di abete rosso ed è tutto per oggi ci rivediamo con una nuova specie grazie a tutti